però minchia devo dire che cioè ma quando va fuori giri 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 bene non fanno scoppietta proprio al massimo tirato al mare va talmente tanto che si sfidano le viti fra poco cazzo si è apposta è giusto così non deve scoppiettare uguale alla vespa che non scoppietta se scoppietta è perché ha qualcosa che non va quando va fuori giri proprio al massimo fa lo scoppio fa il ritorno di fiamma ecco quello della mia mini moto no non fa così e il carburatore che è andato vabbè però lì